Buongiorno, benvenuti tutti qua. È un primo giorno per noi importante l'arrivo di Leonardo Semplici come allenatore. La scelta, come sempre diciamo, è nata da una riflessione in profondità e con un'intenzione. Quindi lui sarà il nostro allenatore fino al 30 di giugno di questa stagione e speriamo raggiungere il vero obiettivo per questa società di restare in Serie A. Questo ci permetterà di continuare il rapporto con Leonardo per altri due anni. Leonardo è un allenatore di un percorso lungo, di un percorso di allenatore vero, nato dal calcio umile dove la sua competenza ha dimostrato di portare il successo e crescere dai livelli più bassi a quello più alto con un percorso molto importante che dove io ho avuto l'opportunità di conoscere il settore giovanile della Fiorentina, il settore giovanile della Fiorentina dove soprattutto lui ha riuscito a valorizzare un gruppo di calciatori giovani che poi sono diventati anche calciatori della nostra nazionale italiana. Calciatori diciamo Bernardeschi, Mancini, Chiesa, sono tanti calciatori giovani che alle sue mani hanno cresciuto in personalità e in capacità tecnica. Un allenatore che dopo di che finire il suo percorso al settore giovanile della Fiorentina arrivando anche a giocare una finale Coppa Italia è iniziato una cosa che poche persone nella storia del calcio, non diciamo soltanto in Italia anche in Europa sono riuscite a fare, prendere una società praticamente in retrocessione in Lega Pro e portarla in maniera consecutiva in Serie A eppure riuscendo a rimanere in Serie A per due stagioni. Pochi, pochi, pochi allenatori possono dire che hanno fatto questo e noi abbiamo la fortuna di contare con lui oggi. Dopodiché il suo lavoro molto apprezzato a Cagliaris l'ho riuscito a tenere in Serie A una squadra veramente forte che non aveva trovato la sua strada e lui è stato capace di dare quell'identità che ha permesso raggiungere una salvezza e continuare in Serie A. Quindi, benvenuto Leonardo. Grazie. Un piacere per noi che sei venuto a lavorare con noi ti ringraziamo per questo sai che avrai tutta la nostra cooperazione come società anche delle persone qua per raggiungere questo obiettivo quindi, mentre di che io lascio la parola a Leonardo. Buongiorno a tutti e sono felicissimo di essere approdato in una piazza così importante ringrazio la proprietà e i direttori che mi danno questa possibilità sono appena arrivato devo dire che ho trovato un gruppo di ragazzi molto coeso, molto unito e questo credo sia l'aspetto più importante conosco la piazza per averci giocato contro in Serie B anche in Serie A la tifoseria che sicuramente è un aspetto determinante per i risultati che ha avuto fino ad oggi questa piazza quindi sono convinto che attraverso le prestazioni cercheremo di dare quelle soddisfazioni che i ragazzi e i tifosi meritano e con il loro aiuto di poter raggiungere l'obiettivo che ci siamo provvisi della salvezza prego per quanto riguarda qualsiasi tipo di domanda non ci sono volenti buongiorno mister Fabio Bernardini della Nazione salve la prima domanda è un pochino implicita insomma lo Spezia chiaramente è in una situazione difficile i numeri parlano chiaro 19 gol realizzati, 39 gol subiti due soli punti dalla zona retrocessione la domanda che le pongo è qual è la criticità che lei ritiene sia in essere maggiore in questo momento e qual è invece il punto di forza l'aspetto positivo che lei ritiene sul quale possa fare perno per raggiungere questa salvezza io partirei dall'aspetto positivo nel senso che conoscendo ma conoscendo dall'esterno la squadra avevo intravisto delle qualità importanti che in passato ma anche in alcune partite quest'anno la squadra ha dimostrato da avere e quindi credo che bisogna ripartire da quello ieri anche se per poco ho avuto il piacere di conoscere i ragazzi ho trovato grande disponibilità grande desiderio di tornare a essere quella squadra che in passato ha fatto delle ottime cose e quindi credo questo sia l'aspetto più importante perché insomma solo attraverso la disponibilità di questi ragazzi che ripeto è stata massimale potremo riuscire a ottenere i risultati che tutti vogliamo è chiaro che come ha detto lei ci sono dei numeri che parlano chiaro però credo con il lavoro di poter dare un indirizzo alla squadra sia sotto l'aspetto offensivo che difensivo e ci possa permettere e di realizzare qualche gol in più e in fase di non possesso essere un po' più ermetici sicuramente quello è un aspetto magari vedendo numeri che preoccupa un po' di più però credo che con le qualità di questi ragazzi di questa rosa si possa riuscire a non dica invertire totalmente ma a migliorare sicuramente ecco questo credo sia un aspetto più importante e buongiorno e benvenuto Marco Maggi, Gazzetta dello Sport Ciao, buongiorno posso darli tu? certo, ci diamo tu assolutamente allora, quello che voglio chiederti è questo in tre giorni non si cambia il comportamento di una squadra a tre allenamenti e dunque quali idee riuscirai a portare a Udine? ma guarda, è chiaro che come hai detto te in due allenamenti e mezzo tre allenamenti insomma non è che uno può stravolgere la situazione e non sono qui assolutamente per stravolgere sono per dare continuità a alcuni aspetti che sicuramente la squadra ha alle caratteristiche soprattutto dei calciatori però è chiaro che per trasferire quella che è la mia mentalità ai miei concetti la mia filosofia, diciamo, idea di gioco ci voglia qualche allenamento in più mi ritengo un buon allenatore ma non così bravo in tre giorni da poter cambiare il destino completamente di una squadra ecco, credo solo attraverso il lavoro di riuscire a inculcare quello è il mio credo quella è la mia mentalità ma soprattutto a cercare la chiave di ogni calciatore per far sì che loro riescano a mettere in campo le loro qualità perché questo è determinante per poi raggiungere risultati buongiorno Enrico Lazzari Spezia Calcio News Tele Liguria Sud ti volevo chiedere abbiamo visto una versione dello Spezia diversa con la Juve che si è vista poche volte quest'anno un 4-2-3-1 un 4-3-3 con un agudeolo più avanzato chiamalo come vuoi quindi un sistema di gioco che lo Spezia peraltro faceva gli anni scorsi e cui tantissimi giocatori sono più abili a fare magari rispetto ad altri sistemi di gioco ecco tu ovviamente avrai le tue idee però puoi ripartire da qua oppure insomma c'è sempre entrambe le soluzioni 3-5-2 4-3-3 4-2-3-1 insomma tante possibilità per questa squadra mi fa piacere mi fai questa domanda perché sicuramente purtroppo o per fortuna non lo so agli allenatori mettono le etichette giocano in una maniera non possono giocare in un'altra io sono stato 20 anni circa che faccio questa professione e ho giocato e ho giocato quasi sempre a 4 poi nel percorso della spalla ho cominciato a giocare a 3-5 ma ho giocato perché avevo alcuni giocatori che avevano quelle caratteristiche quindi il mio discorso cambiava sotto quell'aspetto a Ferrara ho trovato un giocatore Lazzari che in Serie C che sicuramente aveva alcune caratteristiche per me e ho sviluppato come altri giocatori però ecco non è che io sono legato a un modo o a un altro sono legato alle qualità dei ragazzi e sicuramente come diceva lei in passato hanno giocato 4-3-3 4-2-3-1 come vogliamo dire ora inizio il percorso con Mr. Gotti a 3-5-2 e poi l'ultima partita quindi credo che sicuramente non sarà tanto importante i numeri ma come svolgeremo come staremo in campo i concetti che cercherò di trasferire alla squadra l'occupazione degli spazi è secondo me molto più importante dei numeri capisco che dalla parte vostra si debba sapere come una squadra può attaccare può difendere però insomma credo in linea di massa di poter continuare come abbiamo visto ultimamente lo Spezia Buongiorno Mr. Andrea Bonatti Città della Spezia e Ansa una domanda doppia intanto le chiedo se penso ci possa essere convivenza tra Anzola e Shomurodov che sono i due attaccanti di punta di questa squadra almeno sulla carta e poi le volevo chiedere dal punto di vista fisico come trova la squadra in generale se si è già fatto un'idea chiaramente mi rendo conto che ha avuto poco tempo ma io credo per l'immagine che ho visto alla televisione di trovarla in una buona condizione poi è chiaro che in due allenamenti non si può dire per quanto riguarda i due attaccanti sicuramente sono due attaccanti di grande valore è chiaro che bisognerà secondo me trovare anche l'equilibrio per far sì che loro riescano a dare quell'apporto che tutti si aspettano però ecco c'è sempre l'aspetto campo dove determina poi se fare giocare insieme se fare giocare anche con altri compagni più propensi alla fase offensiva quindi in questi due tre giorni cercherò di capire un po' alcune cose poi è chiaro che dalla prossima settimana capiremo meglio come allenandoli personalmente capire effettivamente quelle sono le capacità non solo di loro due ma di tutta la squadra per capire quale dovrà essere la via da qui alla fine buongiorno 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 Massimo Guerra il secolo e Gazzetta della Spezia visto che siamo un pochino scesi sui giocatori noi abbiamo Ampadu che è un ottimo giocatore che può svolgere i due ruoli diciamo play di centro campo e anche difensore centrale ti sei fatto un pochino un'idea su di lui dove potresti collocarlo già domenica ma mi fa piacere fare questa domanda ma io credo insomma di avere a disposizione una rosa di valore evidentemente da Ampadu che giustamente mi ha fatto la domanda quindi io ho la ho la massima fiducia in quella che è la rosa dello Spezia per quanto riguarda Ampadu secondo me ora in questo inizio la mia partenza lo vedo più da difensore quindi credo che lui con noi inizialmente svolgerà questo compito poi insomma dipende dalle esigenze dei momenti se ci sarà qualche emergenza particolare vedremo domenica dopo domenica è chiaro che abbiamo 15 partite bisogna sbagliare il meno possibile e già da domenica affronteremo sicuramente una prima gara importante buongiorno Nicola Pasta città della Spezia e tutto mercato web benvenuto ovviamente anche da parte mia le chiedo abbiamo visto in questa fase di stagione uno Spezia che forse è stato un po' fragile mentalmente per diverse cose che sono successe le chiedo se è questo l'aspetto su cui pensa di dover intervenire il prima possibile abbiamo visto tante volte tante rimonte negli ultimi minuti ha visto la scuola un po' scarica da questo aspetto e si pensa appunto che sia questo il primo tasto da toccare grazie guarda è chiaro che quando arrivi e subentri in una situazione diciamo così da un percorso sicuramente fatto da altri è difficile capire da subito quelle sono le esigenze dei ragazzi io credo che da parte mia ci sia il desiderio ma il desiderio mio conta fino a un certo punto ci deve essere a parte dei calciatori e questo l'ho trovato la voglia sicuramente di invertire quello è stato l'andamento fino ad oggi e quindi credo che bisognerà lavorare a 360 gradi quelle sono le qualità di questi giocatori perché molti pensano alle negatività magari che si sono create invece io devo pensare a quelle che sono le qualità di questi ragazzi anzi aiutarli a esaltare quelle sono le qualità di tornare a essere quei giocatori spregiudicati quei giocatori che attraverso le loro prestazioni hanno raggiunto degli obiettivi e dei risultati belli e quindi sta a me cercare quotidianamente attraverso l'allenamento ma non solo l'allenamento sul campo ma anche a parlare con i ragazzi a creare quell'empatia che ci deve essere tra l'allenatore e la squadra per poter poi essere in campo una squadra che lotti su tutti i fronti e che rispecchi soprattutto il volere della società e dei tifosi che ripeto per noi saranno importanti da qui alla fine sì mister buongiorno Luca Vaccaro primo canale Gazzetta della Spezia benvenuto innanzitutto e niente una domanda più che altro sulla tenuta fisica di questa squadra nella prima parte di stagione abbiamo riscontrato purtroppo per sfortuna anche tanti infortuni c'è un nuovo preparatore atletico insieme a lei c'è un modo appunto per cercare di fronteggiare questa emergenza che appunto vede degli infortuni anche un pochino più a lungo termine ma guarda io ti dico del passato non posso giudicare ed è ingiusto da parte mia giudicare c'è stato delle situazioni che non conosco io sono arrivato ieri ho trovato sicuramente delle situazioni di alcuni ragazzi che non stanno ancora bene cercheremo insieme allo staff e alla società di poterli rimettere nelle migliori condizioni perché possano dare rapporto però insomma io credo l'aspetto fisico la squadra sia discretamente per quelle sono le mie conoscenze però insomma vedremo poi con il lavoro per cercare soprattutto di così come posso dire di portare quella che è la mia idea quella mia mentalità e lasciar perdere quello che è stato quello che è stato purtroppo non conta nulla sarà quello che sarà quello che conterà mister salve Massimo Benedetti La Nazione ha già detto una cosa importante vuole parlare con i giocatori quindi questa è già una cosa che a me piace moltissimo vado un po' nei numeri purtroppo lo Spezia ha vinto solo 4 partite in casa addirittura riservo alle calende l'anno scorso per salvarsi ne ha vinte 9 l'anno prima 10 è un po' quello il problema bisogna giocare per vincere cioè ovviamente perché bisogna arrivare almeno a 9 vittorie quindi diciamo che al momento ne mancano 5 però io ricordo che lei a Cagliari batte anche squadroni batte la Roma infatti mi ricordo un 2 a 0 una vittoria e lì praticamente vi eravate salvati oltre alle vittorie negli scontri diretti perché vincesse anche a Benevento se non guarderà secondo lei bisogna vincere gli scontri diretti o rubare punti alle grandi o tutte e due io credo guardi molti parlano degli scontri diretti no? io posso portare la mia piccola esperienza che un esempio io alla spalla l'anno ho vinto la Serie C ho perso gli scontri diretti con la seconda e la terza ma non solo all'andata ma anche al ritorno però ho vinto a 9 punti di vantaggio alla spalla qualche volta è capitato di perdere alcuni di vincere altri con il Cagliari uguale io non credo ci sia una formula precisa credo che nel contesto bisognerà cercare in ogni gara a partita domenica di provare passatemi la parola rubare a tutti i punti perché sicuramente questa è una squadra che ha delle qualità io ieri quando ho parlato ai ragazzi sono stato penso abbastanza chiaro che la squadra la mia squadra la nostra squadra lo spezia dovrà andare su tutti i campi per fare la gara poi è chiaro che abbiamo davanti l'avversario in alcuni momenti la faremo per 20 minuti in altri per mezz'ora in altri per un tempo vedremo quello che ci dirà il campo però io voglio perdere giocandomi la partita voglio che i ragazzi esprimano la propria identità la propria professionalità e la propria determinazione nel raggiungimento dell'obiettivo io la squadra voglio sia propositiva che provi a mettere in campo ripeto queste qualità di questi ragazzi che secondo me sono importanti e quindi deve stare a me trasferire questa fiducia che io ho in loro e loro poi metterla in campo per cercare di raggiungere questo obiettivo credo che questo sia l'aspetto più importante che ho detto alla squadra perché io non voglio andare a fare voglio andare a fare la guerra ma voglio andare a farla con le nostre qualità con le qualità che questa squadra ha dimostrato in passato per cercare il raggiungimento dell'obiettivo buongiorno 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 la Fazzanotti la Nazione il World Web ha trovato la squadra un po' impaurita questo potrebbe dimostrare il fatto di perdere qualche punto di troppo nelle ultime e poi un allenatore che arriva 3-4 giorni dalla prima partita difficilmente riesce a cambiare qualcosa da dove pensa di ripartire grazie ma è chiaro come diceva lei gli allenamenti sono sono un po' pochi per capire poi tutta la 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 situazione che si è venuta a creare in questo momento però ripeto io quando i direttori mi hanno chiamato io sono stato felicissimo perché secondo me ripeto questa è una squadra che ha dei valori sicuramente nel percorso di un campionato capita l'obiettivo credo fosse quello della salvezza inizialmente e non si è cambiato e quindi capita dei momenti up e down sicuramente questo è un momento un po' più difficile ma credo solo attraverso il lavoro attraverso la conoscenza mia dei ragazzi di cercare di riportare un ambiente positivo anche nelle sconfitte perché quando si lotta per la salvezza bisogna far fronte a queste cose cercando di essere sempre positivo sempre sorridente cercando di far capire le cose buone molte e anche le cose che andremo a sbagliare però che si possono rimediare quindi da parte mia non è che c'è la medicina che ho in mano la medicina giusta credo però attraverso il mio lavoro ma soprattutto l'aiuto di questi ragazzi di poter permettermi di arrivare poi insieme alla società insieme alla tifoseria all'obiettivo finale buongiorno mister Paolo Bertuccio Rai TGR Liguria buongiorno buongiorno lei prima ha parlato di empatia e di dialogo con i giocatori lei ritiene quindi che la salvezza potrà passare principalmente attraverso un lavoro psicologico prima ancora che tecnico assolutamente sì questo è l'aspetto più importante quando sempre per me quello che penso io ma quando subentri devi entrare subito nella testa dei calciatori devi creare quel rapporto di stima che ci deve essere tra l'onanatore e la squadra cercherò di creare questo tipo di clima che sia propenso ad arrivare all'obiettivo e quindi credo che il lavoro che insieme al mio staff cercherò di fare soprattutto quotidianamente nel capire le problematiche che ci possono essere state sia a livello singolo sia a livello di reparti ma soprattutto anche di squadra poter fare un lavoro da poter come dicevo prima trovare la chiave di ognuno e far sì che questi ragazzi riescano poi la domenica a determinare il risultato a nostro favore mister buongiorno benvenuto Manuel Arena di calciospezia.it le volevo chiedere visto che lei si è collegato comunque alla piazza alla tifoseria così a primo impatto che messaggio si sente di lanciare ai tifosi in vista di queste prossime partite che indubbiamente saranno importanti visto che si andrà a Udine poi ci sarà la partita importantissima con l'Ellas grazie è un pubblico che ho conosciuto da avversario poi ho visto un paio di partite quest'anno insomma conosco la vicinanza e l'attaccamento che ha la tifoseria alla squadra quindi la cosa che chiedo è di continuare da parte loro a stare vicino a questi ragazzi di incitarli anche nelle difficoltà sappiamo che affronteremo un percorso difficile ma solo attraverso la coesione società squadra tifosi possiamo arrivare tutti insieme a questo traguardo quindi sotto il suo aspetto sono convinto che i ragazzi della curva e non solo staranno vicini a questi ragazzi li inciteranno e la nostra promessa è quella di cercare di sputare sangue passatemi la parola fino all'ultima partita per poi essere a realizzare quello è l'obiettivo di tutti Sì visto che siamo mai prepartita praticamente parliamo un po' di quest'udinese una squadra che è partita fortissimo ha fatto risultati importantissimi poi a un certo punto ha cominciato ad andare a una serie di pareggi come vedi questa gara e soprattutto le criticità che può comportare questa squadra all'udinese nei confronti della tua ma è una squadra anzi è una società che lavora tanto tempo in una certa maniera allestendo sempre delle ottime rose quest'anno hanno avuto una partenza straordinaria sicuramente sotto certi aspetti anche oltre alle aspettative sicuramente iniziali aveva la società una squadra forte una squadra di valore una squadra che ha delle caratteristiche abbastanza precise molto forte fisicamente e anche delle buone qualità di tutta la rosa quindi sarà una partita difficile però noi siamo consapevoli e convinti delle nostre qualità e cerchiamo da andare lì come ho detto prima cercando provando a fare la gara cercando di mettere in campo quelle che secondo me sono le nostre qualità e ribattere colpo su colpo per portare via un risultato positivo ecco questo senza un bel dubbio l'Udinese sicuramente ma come tutte in Serie A non c'è una partita sulla carta più facile poi per noi in questo momento a 15 domenica alla fine saranno tutte non dico finali perché non voglio parlare di finali ma partita importante per provare a cominciare a mettere i mattoncini che mancano al risultato finale è una domanda che rivolgo un po' a tutti e tre è un aspetto che esula un po' dal punto di vista tecnico che però è implicito per il raggiungimento del risultato ed è il rapporto di empatia con i tifosi nel senso che la tifoseria Spezzino è sempre stata molto attaccata alla società alla squadra eccetera e lo è tuttora insomma lo ha dimostrato però in un certo senso si avverte a volte un po' di distacco di lontananza tra la tifoseria la società e la squadra nel senso che a volte occorrerebbe una maggiore vicinanza penso ad esempio non so qualche giorno ad aprire gli allenamenti alla gente penso anche ad altri aspetti che possano ulteriormente diciamo creare questo collante che a volte non si avverte tra la squadra e la tifoseria posso ricordare questa cosa è una cosa che abbiamo preso in esame da un po' di tempo con Edoardo volevamo aprire compatibilmente con le disponibilità follo o al picco un allenamento settimanale alla squadra è una cosa per noi molto importante che va condivisa con con l'allenatore perché è l'allenatore che gestisce gli allenamenti e quando abbiamo incontrato Leonardo è stata una delle cose che abbiamo voluto perché sappiamo l'importanza della gente a Spezia sappiamo l'importanza di non perdere la partita al 92 perché ci dà una spinta al pubblico e la portiamo a casa e Leonardo la prima cosa che ha detto ha detto per me anzi è una cosa fra i miei punti che ci tengo particolarmente quindi per avere la risposta alla domanda di Fabio è già nella nostra destra da un bel po' poi abbiamo avuto problemi di sistemazione dello stadio a livello organizzativo e tutto e adesso siamo pronti per poter regalare regalarci questo momento di condivisione infatti era una delle cose che mi ha detto Stefano che ho chiesto anche io perché capisco i tifosi ed è giusto che vengano a vedere come ci alleniamo ma anche che vedano i loro beniamini i loro giocatori e creano ancora di più quell'appartenenza che è giusto ci sia in una città e una tifoseria come qui a Spezia io in passato ho avuto la fortuna di frequentare piazze importanti e questo aspetto è stato sempre determinante per creare quella unità di intenti e poi ci ha permesso di vincere di arrivare all'obiettivo sia alla SPAL che poi al Cagliari anche se a Cagliari ho vissuto l'annata del Covid è stata un po' particolare però insomma nonostante quello si è creata anche quando uscivamo in città insomma le poche volte c'era quella avvicinanza delle persone dei ragazzi in primis che dove loro poi la domenica riuscivano a rispecchiarsi questo credo sia un aspetto importantissimo